Per la prima volta nella storia del Comune di Agropoli si discute il Question Time, convocato per giovedì 31 gennaio alle ore 18 presso l'Aula Consigliare Alfonso Di Filippo. Il Question Time rappresenta uno strumento per snellire il lavoro del Consiglio Comunale e per consentire ai cittadini di proporre domande all'amministrazione per mezzo dei loro rappresentanti eletti in Consiglio. A tal proposito la consigliera comunale Gisella Botticchio non ha perso tempo e ha immediatamente interrogato l'amministrazione comunale. Tre le interrogazioni proposte, la prima inerente alla manutenzione stradale, visto che da diversi anni il Comune di Agropoli è interessato da lavori alle infrastrutture, acque, fogne, posacavi, condotte e ciò ha comportato diverse situazioni di disagio, tant'è che negli ultimi mesi invernali, a suo dire, i ripristini effettuati non sono risultati efficaci. Così la Botticchio interroga il Sindaco se è a conoscenza dei fatti esposti e quali misure urgenti ha da intraprendere. La seconda interrogazione invece riguarda il problema della Posidonia spiaggiata che ha determinato vistosi accumuli in prossimità delle zone interessate. Anche in questo caso la consigliera comunale chiede di conoscere quali sono i tempi e le azioni intraprese per prevenire il fenomeno. L'ultima interrogazione è inerente alla manutenzione degli edifici scolastici e sportivi. In questo caso la Botticchio mette in evidenza problemi quali perdite di acqua, sovraccarico degli impianti elettrici all'interno di diversi istituti scolastici, e chiede di sapere, dagli assessori Santo Suosso e Lampasona, se siano a conoscenza dei problemi esposti e se abbiano predisposto un cronoprogramma di interventi immediati e a carattere periodico. Resta da capire adesso se il presidente del Consiglio, Massimo Laporta, accetterà le interrogazioni della consigliera comunale Gisella Botticchio, considerato che il termine per la consegna delle stesse al momento della richiesta, e cioè il 28 gennaio scorso, era scaduto.